Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. L'occupazione è davvero il problema di tantissime famiglie, di tantissimi italiani, però in tanti giustamente hanno dei figli, degli i po' disoccupati, ma ci sono anche tante opportunità, tante chance. Ve ne parleremo questa sera, quindi grande attenzione alla puntata di questa sera perché vi daremo poi concretamente quali sono le opportunità per poter lavorare lungo la penisola. Ma una persona ci ha scritto, vero Maris? Buonasera Maris su questo argomento. Buonasera a te Giuseppe, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, è proprio così. Allora scopriamo nel dettaglio cosa ci hanno voluto scrivere i nostri telespettatori e invito chi non l'avesse ancora fatto a mandarci una lettera ad Attenti al Lupo, via Aurelia 796. Vi ricordo che ci troviamo a Roma e il capo è 00165. Potete mandare le vostre domande anche ad Attenti al Lupo, chiocciolatv2000.it, questa è la nostra casella di posta elettronica. Intanto la lettera di questa sera ce la scrive la signora Fabiola da Foggia e ci dice, cari amici di Attenti al Lupo, sono una mamma preoccupata. Mio figlio Simone ha terminato gli studi da tempo, ma oltre a qualche breve collaborazione o a qualche stagio non riesce a trovare altro. Capite bene che con i pochi soldi che riesce a guadagnare non può essere indipendente, infatti non riesce a sposarsi e a progettare un futuro. Mi sento impotente, come posso aiutarlo? Avevo sentito parlare dell'istituzione di un'agenzia nazionale per il lavoro. Ecco, che fine ha fatto? Che facciamo? Ci arrendiamo e lo aiutiamo anche noi ad andarsi a cercare un lavoro all'estero? Grazie di cuore e questo ce lo scrive la signora Fabiola. Cerchiamo di dare una risposta, soprattutto cerchiamo di evitare che tanti italiani, tanti giovani, anche meno giovani, vadano via, vadano all'estero, perché altrimenti si impoverisce un po' questo paese. Buonasera ai nostri ospiti, Giuseppe Biazzo, consigliere di Asso Lavoro e amministratore delegato di Oriente, Agenzia per il Lavoro. Buonasera, Dottor Biazzo. Buonasera, Antonio Troise, giornalista, editorialista di diverse testate. Allora, subito a Troise, possiamo dare una risposta a questa agenzia per il lavoro che fine ha fatto? L'agenzia è operativa dal primo gennaio di quest'anno, ha assorbito quello che era il Dipartimento delle Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro e Italia Lavoro, quindi ha messo insieme le due agenzie che dovrebbero creare le opportunità di lavoro o in ogni caso istraddare i giovani verso un'occupazione. Il programma Garanzia Giovani, che oggi è entrato, ha spento le prime due candeline, mi sembra, sono due anni che è attivo, promette di dare un'occasione, un'opportunità di lavoro entro pochi mesi dalla fine degli studi. Però in Italia esiste un grande problema che è quello dei ragazzi che lo studiano, non lavorano nei cosiddetti net che ovviamente hanno bisogno di una spinta in più. Parleremo, poi daremo anche dei consigli pratici per questi ragazzi, quindi lo dico magari a tante mamme, a tanti papà, a tante nonne che stanno a casa perché spesso si è impreparati nel momento in cui si va a fare anche un colloquio, si manda un curriculum, vi daremo proprio dei consigli pratici. Però chiedo a Giuseppe Biazzo, è un problema dei giovani, delle giovani generazioni, ma c'è anche una difficoltà oggettiva per tanti che hanno perso in questi anni di crisi economica che hanno 50-55 anni il posto di lavoro. Sta cambiando qualcosa? Hanno delle opportunità, delle priorità, una corsia preferenziale? Perché lì davvero diventa preoccupante, ancora più preoccupante dei giovani. Sì, sicuramente c'è anche questa problematica perché oltre ad avere un'alta disoccupazione giovanile c'è anche una disoccupazione più elevata sugli over 50, quindi sulle persone sopra i 50 anni, anche se ultimamente abbiamo registrato dei dati di miglioramento su quest'area. Le politiche attive, come parlava prima di me il collega, sono proprio quelle che poi a livello di regioni vengono fatte, quindi ci sono dei bandi, delle agevolazioni, qualche cosa a livello regionale che cambia regione per regione su quest'area anche degli over 50, sui quali oggettivamente c'è un'attività del lavoro da fare perché il mercato del lavoro è cambiato fortemente e quindi bisogna sapersi adeguare alle competenze richieste e anche non solo alle competenze pratiche ma anche proprio alla modalità di lavoro che spesso è cambiata rispetto alle abitudini che avevano queste risorse nei precedenti lavori. Maris, i nostri riferimenti? E allora, primo fra tutti, ricordiamo il numero verde che è gratuito anche per i cellulari, lo ricordiamo, 800 508 990 e poi potete trovarci anche su Facebook e su Twitter, basta cercare Attenti al Lupo e partecipare alla diretta. E allora, vogliamo subito vedere una tabella, una tabella grafica perché abbiamo preso i dati di Union Camera, sono i lavori più richiesti nel 2017, ma quali sono? Quali saranno? Beh, secondo Union Camera le richieste reali sono per cuochi, camerieri, pasticceri, vediamo se ce l'abbiamo il cartello, pasticceri, panificatori e barman. Insomma, è tutto cibo? Dottor Biagio, che sta succedendo? Siamo diventati un paese dove si deve lavorare solamente, per carità, la cucina italiana è conosciuta nel mondo, però voglio dire, è solamente lì che si stanno creando opportunità di lavoro o ci sono altri settori? Diamo delle indicazioni a casa. No, ci sono anche altri settori, sicuramente moltissimi settori, ma anche a livello trasversale moltissime competenze digitali, quindi tutto ciò che ha a che fare con il digitale, quindi con il collegamento con le nuove tecnologie, con i social, eccetera, è molto richiesto, ma non solo dal punto di vista informatico, ma anche nel saper gestire, per esempio, i contenuti social all'interno delle aziende, quindi anche comunicazione e cose di questo tipo. C'è la parte, per esempio, della green economy, tutta la parte legata all'economia e all'agricoltura verde. L'agricoltura ha un risveglio di occupazione, anche legata proprio paradossalmente, anche se sembrano due aree molto distante, alle tecnologie digitali, perché magari ci sono anche delle start-up di giovani che riscoprono l'agricoltura e grazie magari a delle modalità di distribuzione più incentrate sulla rete, su canali innovativi, riescono a portare, grazie anche alla grande attenzione che c'è alla qualità del cibo, perché il cittadino italiano giustamente è molto attento, sempre più attento a quello che mangia, a quello che va ad acquistare, ci sono degli spazi di mercato interessanti che alcune start-up hanno preso sul lato agricolo. Troisi, un tempo si diceva che bisogna andare all'università rigorosamente, ma vedendo queste proiezioni per il 2017, ritorna prepotentemente qualcosa che i nostri nonni facevano, magari gli artigiani, allora vediamo che i pasticceri, gli chef, i sarti, tutte queste proiezioni, tra poco vedremo uno splendido servizio proprio di un'artigiana, ma è davvero così? Bisogna puntare nuovamente sull'artigianato anche il nostro paese, che è una lunga tradizione peraltro? Sì, innanzitutto io penso che non bisogna lasciarsi trascinare dalle mode, dalle tendenze. Io ricordo recentemente il sindaco di New York, che non mi sembra un paese o una cittadina ai margini della globalizzazione dell'economia. Peraltro di origini italiane. Di origini italiane, che suggeriva ai giovani di riscoprire mestieri come gli autisti, i giardinieri, gli idraulici, i riparatori di biciclette. Ora, se a New York si cercano o il sindaco promette o suggerisce questi lavori, evidentemente c'è qualcosa di vero. Per quanto riguarda la domanda sull'università, l'Italia in ogni caso ha un tasso di laureati ogni 100 persone, 100 cittadini, che è la metà esatta di quella degli Stati Uniti. Quindi attenti a dire che l'università non serve. Diciamo che l'università dovrebbe essere molto più focalizzata nella ricerca e nello sviluppo di attività lavorative. Magari ci vorrebbe un rapporto anche diretto col mondo del lavoro, spesso manca questo rapporto. C'è proprio oggi una ricerca, penso dell'università, che dimostra come l'alternanza fra steggio e lavoro comporta un maggiore successo nella ricerca dell'acqua. Allora, vogliamo vedere questo, siamo andati a scovare questa ragazza che fa l'impagliatrice. Un vecchio mestiere di grande tradizione, beh, lei lo fa per una tradizione di famiglia. Vediamo come si fa ancora l'impagliatrice nel 2017. Io ci sono cresciuta qui in mezzo e lo capisco il valore di una sedia fatta dalle mani di qualcuno piuttosto che di una sedia uguale a tutte le altre fatte in serie. Io sono andata a scuola, ho fatto tutto normalissimo, però ho sempre avuto questa passione proprio perché vedevo mio nonno, mio papà, poi a casa anche c'era la nonna che rimpagliava, è sempre stata una cosa di famiglia. Noi lavoriamo tutto ciò che è naturale, quindi i materiali che vanno dal Vimini alla Paglia di Vienna, al Midollino Antico e viene fabbricato ancora perché c'è mio padre di tutto. Io restauro per ora. Lui invece dà all'armadio, al letto, alla sedia, al salotto, al tavolo. Papà gli puoi chiedere proprio tutto. Il mio sogno per questa attività è che rimanga in famiglia come è stato dagli anni 60. È tutta estetica e deve essere bello e deve venire come era una volta e poi vai a occhio e se non ti piace lo rifai, lo ridisvi da capo e da capo e da capo. È una bottega a cui io tengo molto, proprio perché ha un valore affettivo e familiare. È anche mia sorella perché io non sono sola e c'è anche lei che sta studiando come me e si sta specializzando nelle scanalature del legno, per cui è comunque un progetto che noi vorremmo portare avanti. Sta imparando i riduimenti del lavoro perché imparare un mestiere vuol dire lavorare e studiare tra virgolette fino all'ultimo giorno che sei in bottega. Io non vorrei mai che chiudesse questa bottega. Ho tantissimi ricordi qui dentro, capisco il valore, il profumo, è proprio una cosa che non vorrei che andasse persa. È davvero splendido questo servizio, Marta Manzo e questo lavoro, addirittura la parola bottega, fa un po' ricordare ai nostri nonni che parlavamo della bottega, andare a bottega, qualcosa veramente di straordinario che dovrebbe in qualche modo ritornare, a mio giudizio. Allora, chiedo subito a Troisi, abbiamo visto questa storia, ma lì quale potrebbe essere un'altra attività artigianale? Lei ha detto, il sindaco di New York ha dato delle indicazioni, ma noi abbiamo anche delle peculiarità che sono proprio del nostro paese, del nostro territorio. Possiamo dare un paio che mancano secondo lei, poi facciamo un altro collegamento. Assolutamente sì, ci sono praticamente tutte le attività legate al turismo, che sono attività molto, diciamo, che hanno grosse potenzialità di sviluppo. Ovviamente vanno declinate con le nuove tecnologie, non in maniera antica. Vi chiedono le aziende del settore del turismo figure professionali e quali? Beh, assolutamente sì. Il turismo poi è declinato in maniera ampia, quindi c'è anche diciamo tutto ciò che riguarda l'ospitalità delle persone, hanno bisogno di tantissime, di da zona a zona, soprattutto la conoscenza della lingua è la parte un po' deficitaria. Fondamentale, la lingua. Prima di collegarci, con questo collegamento a Scarpi, le chiedo qual è l'errore più frequente di una persona che viene a fare un colloquio? Voi avete tante sedi lungo la penisola e fate tantissimi colloqui. L'errore più eclatante, quello che avviene ripetutamente, che voi dite, ma se viene a fare un colloquio da noi, adesso si sbaglia sempre qualcosa, cosa, così lo diciamo a casa e si preparano. Diciamo che quando vengono da noi possono anche sbagliare perché poi noi li presentiamo agli altri e gli facciamo noi una formazione. Quando vanno dalle nostre aziende clienti a presentarsi è andare impreparati, quindi non prepararsi prima e questo è veramente un peccato perché ormai... Cioè non conoscere neanche l'azienda con la quale si va a fare il colloquio. Mentre invece navigando su internet, come spesso i ragazzi fanno in continuazione, si raccolgono tante informazioni che poi sono utili da spendere in sede di colloquio. Poi le chiederò pure come bisogna fare il look perché è fondamentale. I giovani non sanno neanche come comportarsi quando dobbiamo fare un colloquio. Ma prima abbiamo un collegamento con Bacchisi Oledda, imprenditore sardo, presidente e fondatore di Mail Express Posto e Finanze, un'azienda postale privata nata nel 1997 a Teramo. Buonasera Presidente, le chiedo subito perché le ha fatto una provocazione sui giornali. Ha detto ma qui nessun giovane vuole venire a lavorare, nessuno vuole fare il postino. Tutti preveniscono stare a casa magari con la paghetta di papà e di mamma o con qualche indennità di disoccupazione. È così? Diciamo che non è proprio così che non hanno voglia di lavorare. Ce ne stanno tanti che non hanno voglia di lavorare. Noi nel mondo dei portalettere purtroppo facciamo fatica. Perché? Perché forse sono convinti che uno prende la posta, esce e il compito finisce è là. Invece è un lavoro molto complesso, molto difficile e molto impegnativo, anzi è la nostra punta di diamante come attività. Quindi il portalettere per noi deve avere determinati requisiti. Facciamo fatica a trovare persone giuste. Facciamo fatica anche perché il tipo di impostazione che c'è oggi in Italia nel mondo del lavoro non consente di fare determinate scelte. Faccio l'esempio. Noi abbiamo avuto, posso dire tranquillamente il 90% delle persone che hanno rifiutato il lavoro perché avevano l'anaspi. Che cosa è? Lo spieghiamo? È un'indennità sostanzialmente. È un'indennità di disoccupazione. Percepiscono indennità di disoccupazione. Perfetto. Allora quando tu ti trovi in queste condizioni qua che fai delle selezioni e poi rinunciano perché stanno bene a casa con quello che gli passa lo Stato, diciamo che è molto molto grave. Ci può dire concretamente quante ore lavora un postino privato e quanto guadagna mediamente? Perché così diamo anche un paragone. Il postino privato lavora dalle 4 ore, dalle 2 ore, dipende dalle 6 ore. Raramente si fa alle 8 ore perché si cerca di fare 6 ore e orario continuativo. E quanto guadagna mediamente? Quanto è il guadagno? Allora diciamo quello che fa 4 ore sono circa 500-600 euro, quello che fa 6 ore 800-900 euro. Quindi non sono neanche delle retribuzioni economiche insomma. In qualche modo però ci vuole un po' di passione e bisogna avere insomma la voglia. Molta attitudine, molta attitudine ci vuole per fare questo tipo di attività. Prima di salutarla perché so che in aeroporto deve scappare a prendere un aereo, le chiedo ma voi come azienda comunque ricercate sempre queste persone? Quindi voglio dire state sempre a caccia di persone? Perfetto, perfetto. Spesso e volentieri guardi è una cosa, ci rivolgiamo anche alle società interinali per un lavoro che diciamo che è un po' più di basso profilo. L'ultima battuta mi dice dove li cercate questo centro, nord o sud? Perché è importante anche questo. Prevalentemente le devo dire, preferentemente centro-sud. Centro-sud, attenzione. Quindi mi sembra qualcosa di estremamente interessante. Con questo la ringrazio. Molto grave, molto grave. Eh, molto grave. La ringrazio Bacchisi Oledda, questo imprenditore. Prima di sentire le domande dei spettatori, poi c'è una divaricazione nord e sud. Nel centro-sud cercano queste figure professionali e hanno difficoltà a trovarla. Avete anche voi il polso della situazione da questo punto di vista? Ma adesso è chiaro che questa è una testimonianza oggettiva di un imprenditore, quindi va presa sul serio. E non si può neanche generalizzare, no? Anche perché tantissimi veramente farebbero di tutto, soprattutto al sud, sono disponibili a lavorare, lavorare, lavorare. Però oggettivamente quello che noi riscontriamo, soprattutto nelle giovani generazioni, è qualche volta la difficoltà alla propensione al sacrificio, diciamo così, perderla proprio in maniera... Come si faceva un tempo. Per cui quando iniziano a sentire un lavoro con quattro ore, sei ore, ma insomma qualcuno inizia a essere più difficile da chiudere. E' vero che molti vi chiedono il sabato si lavora, il sabato pomeriggio, perché il sacrificio che si faceva un tempo sono poco propensi a farlo. Non solo lo chiedono a noi, lo chiedono magari al primo colloquio e quindi probabilmente poi non ricevono l'offerta perché non dimostrano di avere una motivazione così elevata. Ripeto, stiamo generalizzando e non è tutto così. Certo. Ma all'inizio anche di un lavoro bello, come può essere, molti considerano, è quello del giornalista. Ma quanti sono i sacrifici che lei ha fatto? Moltissimi, moltissimi. Ci vuole molta passione, soprattutto in questi lavori, che in questo periodo poi in particolare stanno subendo una forte evoluzione dal punto di vista tecnologico. All'inizio si fa una gavetta durissima e senza retribuzione, ovviamente. Quante notti ha passato il giornale? Io ne so qualcosa, mi ricordo qualcosa anche con Antonio Troise. Tante nottate dei giornali per lavorare. Allora, Maris. E allora, arrivano domande da mamme e nonne preoccupate, o meglio, chiedono consigli. In particolare Marzia ci diceva, ecco, il prossimo anno mio figlio dovrebbe iniziare l'università, ma quindi che cosa gli devo consigliare? Quale indirizzo posso consigliare a mio figlio? Qual è quello che conviene che faccia trovare un mestiere? Domanda estremamente interessante. Qual è la facoltà universitaria? Lo chiederemo a un esperto, come abbiamo in studio, tra qualche istante, subito dopo la pubblicità. Entriamo in studio, stiamo parlando del lavoro, delle opportunità, delle chance che ci sono. Allora, ci dice Marzia, la nostra telespettatrice, il figlio deve andare all'università. Qual è il consiglio e suggerimento che le sentite di dare in base al mercato, che voi avete una sorta di monitoraggio giorno per giorno, settimana per settimana? Allora, intanto la scelta universitaria della persona la deve fare anche e soprattutto in base anche alle sue attitudini e quello che vuole perseguire come studi. Però è chiaro che seguire quello che è l'andamento del mercato è importante. Premesso questo, noi possiamo dire che, per esempio, le lauree scientifiche in Italia hanno sicuramente meno laureati di quante ne richiede il mercato. Quelle che, appunto, parliamo di matematica, di fisica, di ingegneria, ovviamente, di statistica. Questo perché anche con questa rivoluzione digitale che si sta sempre più sviluppando in tutti i settori, dalle manifatture, eccetera, ci sono sempre più dati da interpretare, da lavorare. Quindi questo sicuramente, per chi ha un'attitudine scientifica, quel tipo di studio può essere valido. Troise, un tempo si aspettava il posto da dipendente, ora bisogna anche fare un cambiamento, bisogna anche lanciarsi giù, bisogna anche lanciarsi anche creando attività di impresa, piccole attività di impresa, ma ci sono i fondi, i finanziamenti, le opportunità, non tutti hanno la possibilità di investire dei soldi appena laureati o appena diplomati. Certo, ci sono una serie di incentivi e di misure che il governo ha messo in campo per spingere i giovani a trovare e a crearsi il proprio lavoro. In particolare vorrei citarne un paio. La prima si chiama self-employment, che è una misura destinata ai giovani che sono iscritti al programma Garanzia Giovani, che seguono o possono seguire dei corsi di formazione, quindi dei corsi attraverso i quali possono apprendere almeno le basi per fare e creare un'impresa e questo incentivo dà la possibilità di ottenere una cifra a tasso zero, quindi un prestito senza garanzie, per avviare un'attività imprenditoriale. Un'altra misura interessante è stata lanciata di recente dal Ministero del Nibat, che è il Cultura Crea, che finanzia le imprese nel settore culturale e nel settore turistico-culturale. Quindi anche qui sono delle misure che possono veramente spingere l'occupazione a trovare degli sbocchi imprenditoriali. Attraverso un'attività di impresa. Prima dicevamo con Giuseppe Biazzo che l'agricoltura è uno dei settori in grande crescita. Vediamo questa storia che arriva dalla provincia di Lecce, dove c'è una vera e propria integrazione, in un villaggio di integrazione tra degli immigrati che sono stati regolarmente inseriti in una struttura produttiva, insieme a dei disoccupati del nostro paese. Vediamo questa splendida iniziativa dal sud, da Lecce. Una masseria a pochi chilometri da Lecce, animali che razzolano, gente che lavora. E la risposta pugliesi ai ghietti è la difficoltà di accoglienza e di integrazione di migranti che quotidianamente rimbalzano sulle croniche nazionali. Qui una onlus dal nome evocativo Integra porta avanti un progetto di integrazione per immigrati che lavorano e traggono il loro sostentamento proprio dalla coltivazione della terra, imparando un mestiere e provando a vendere i prodotti frutto del loro lavoro. La presiede una immigrata albanese, Clodiana Ciuca, che è arrivata in Italia con un contratto di collaboratrice domestica, si è laureata e ha scelto di provare ad aiutare i migranti meno fortunati di lei. Io sono arrivata nel 1992 con la legge Martelli, con un contratto di lavoro come collaboratrice domestica. Il nostro obiettivo di quest'anno è proprio quello di avviare il social business, oppure quello che è tanto usato in America, oppure l'economia solidale, quindi la masseria possa produrre, non soltanto per mantenere i ragazzi che ci vivono qui, ma anche perché no, creare un condotto di chilometro zero, la masseria, un luogo di integrazione, anche di scambio di culture. Nel villaggio Integra lavorano una dozzina di immigrati di diversa provenienza che hanno trovato la loro ragione di vita, hanno imparato un mestiere, per ora producono farina dal grano, olio dagli oliveti e ortaggi. Qua adesso ho sei anni, io vengo con la balastina, io lavoro con l'agricoltura anche qua, tanti loro aiutano per quello qualcosa, per aiutare l'agricoltura, per capire che fare, il futuro, capito? Quello miglior. Tu sei in Italia da molti anni? Sì, quasi da sei anni. Già conoscevi l'agricoltura per averla fatta in Chad? In Chad anche, ho lavorato, però di qua sono già imparato, ho andato a scuola, ho già imparato il lavoro. Ma il progetto serve ad aiutare anche un disoccupato del luogo. Sono rimasto disoccupato nell'ambito dell'edilizia, sono rimasto due anni, poi ho conosciuto questa associazione e mi hanno accolto qua. Come si trova a lavorare anche con le persone che vengono da altre parti del mondo? Bisogna capirle e aiutarle, bisogna capire la loro storia. Il tutto sotto la supervisione di un agronomo di origine cilena arrivato in Italia 40 anni fa. Per adesso stanno rispondendo bene. Logicamente abbiamo iniziato l'accolciazione invernale, purtroppo i tempi non ci hanno aiutato e siamo stati un po' fermi. Però i ragazzi rispondono abbastanza bene. Questa è l'esperienza che ci ha fatto vedere Marcello Favani in questo servizio dalla provincia di Lecce. Allora Mari, ci stanno arrivando diverse segnalazioni. Sì, arrivo verso domande. Allora, c'è arrivata una mail dal signor Andrea che ci dice che ha sentito che il governo ha legiferato degli sconti contributivi, lui ha 47 anni, disoccupato, dice per persone nella mia stessa situazione. Ma vuole sapere, questo riguarda per il sud o per il nord? Troise? Sì, riguarda gli sgravi contributivi, sono ora destinati solo al mezzogiorno con l'ultima finanziaria. Quindi prima erano, diciamo, fino a due anni fa erano previsti per tutto il territorio nazionale, sia pure con diverse modulazioni. Con l'ultima finanziaria si è deciso di finanziare o di vendere questo sgravio solo per il mezzogiorno. Quindi dipende da dove è situato. Piazzo, c'è una figura professionale particolare che cercano in questo momento le aziende che si rivolgono alle vostre società di lavoro temporaneo? Una figura specifica nel dettaglio, sì, ce ne sono diverse. Abbiamo visto sia in ambito, vabbè, prima quelle di Union Camera, ma in ambito ristorazione. Ripeto, ci sono molte richieste anche in ambito digitale, quindi molti, per esempio, programmatori, piuttosto che sviluppatori, ma anche di gestione di dati in generale. Per esempio, figure di web marketing sono molte richieste in ambito di servizi e altre in ambito industriale. Quindi dipende un pochino dai settori. Come bisogna vestirsi per venire a fare un colloquio in un'azienda? È importante? È qualcosa di rilevante, secondo lei, in qualche modo? Ma io credo che per qualcuno che si deve andare a presentare un'azienda bisogna curare anche i dettagli. È questo che dicevamo prima. Quindi andando a navigare sul sito dell'azienda presso quale poi si va a fare il colloquio, già si rende immediatamente conto se è un ambiente più giovanile, piuttosto che informale, piuttosto che un ambiente più formale. E bisogna adeguarsi a quella che è l'immagine dell'azienda. Comunque, nel dubbio, è sempre meglio essere più formali, piuttosto che più sportivi, dal punto di vista specifico dell'abbigliamento, diciamo. Maris? Maria Grazia, mamma Maria Grazia, che ci ha scritto da Bologna, dice che il figlio ha 24 anni, uno spende soldi e tempo per master, università, però poi alla fine si ritrova sempre soltanto a fare stage che tra l'altro gli mettono a fare delle operazioni molto elementari, quindi nemmeno impara. Stage, stage, tanti stage. Troise, forse troppi? Ma sì, in parte c'è stata un po' un'accelerazione e anche forse un abuso. Devo dire che con la nuova disciplina sugli stage, diciamo, c'è stata una stretta, diciamo così, ci sono più regole, gli stage che ora sono pagati e devono essere retribuiti in qualche maniera, non c'è più quel sommerso che spesso nascondeva lo stagio. Biazzo, il curriculum, altro elemento di presentazione, la prima fotografia che arriva in un'azienda, che cosa bisogna inserire e cosa bisogna evitare? Il curriculum sicuramente è la prima presentazione, è il primo documento che va in mano a una selezionatrice, quindi bisogna farlo in maniera pulita, in maniera chiara e mettendo in evidenza ovviamente le esperienze di lavoro che si hanno avute, si sono fatte anche, diciamo, col dettaglio di quello che sono stati i compiti sviluppati, ma anche, mi riferisco soprattutto ai più giovani, altre esperienze che possono anche essere, per esempio, quelle di volontariato, quelle di sport, se si è praticato uno sport a un certo livello, attività culturali e quant'altro, perché sono anche aspetti che possono essere valutati. Abbiamo 30 secondi, è vero che le aziende in qualche modo controllano anche un po', vedono anche il profilo Facebook, perché ora in tanti stanno su Facebook, sui social network, bisogna stare anche un po' attenti a quello che si scrive, a quello che si mette su questi social network, è così? Assolutamente, c'è un termine della social reputation, perché la cosa più semplice da fare per una selezionatrice è mettere nome e cognome su Google e se escono foto, cose, situazioni particolari, poi chiaramente uno le contestualizza, non è che il ragazzo deve vivere, però, insomma, sono valutati. È un primo segnale, è un primo segnale. Allora, davvero ringrazio gli ospiti, ringrazio Giuseppe Biazzo di Asso Lavoro, amministratore delegato di Orienta, Agenzia per il Lavoro, e grazie davvero a Antonio Troise, giornalista, editorialista. Maris, è tutto per stasera. È tutto per stasera e ovviamente grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguriamo un buon fine settimana e vi diamo appuntamento a martedì prossimo 7, il 7 alle 7, alle 19 quindi. Grazie a tutti e buon fine settimana!